Petrolio, greggio, analisi giornaliera 18 marzo 2015, FXEmpire.it Come potete vedere durante la sessione di martedì i mercati del greggio VT si muovono in ribasso per andare a testare quota 43 dollari. Tuttavia entro la fine della sessione il barile ha invertito nuovamente la rotta in rialzo per andare a stampare un martello. La figura potrebbe allora stare a preannunciare un possibile rimbalzo, che tuttavia sfrutteremo esclusivamente per vendere un mercato che a nostro parere raggiungerà presto quota 40 dollari. Anche se ci muovessimo in rialzo, dunque in presenza di eventuali candele di resistenza non esiteremo a vendere. Come potete vedere durante la sessione di martedì il brand si muove in ribasso per avvicinarsi sempre più a quota 50 dollari, dove una rottura aprirebbe la strada di una mossa sui 45 dollari. In quest'ottica anche eventuali rimbalzi andranno qui interpretati come un'ottima opportunità per vendere un mercato indubbiamente ribassista. Con il dollaro che prosegue in perterrito la sua ascesa, i mercati del greggio non sembrano avere alcuna possibilità.